benissimo grazie allora salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora in questo video unboxeremo questo pacchetto aspetta questo pacchettino qua ma qui c'è il cartone basso va bene c'è poi il cartone basso aspetta se non apri è un po' difficoltoso da aprire però qua abbiamo il nostro cameraman ecco qua queste sono delle cuffie bluetooth che praticamente ora io dopo le metto in carica per provarle e che praticamente vanno con questo iphone fra tipo una 3 4 giorni vi ci farò la recensione non vi preoccupate e intanto niente per questo unboxing è tutto lasciate un commento mi piace iscrivetevi e ciao